Il Comune di Ispica ha inviato telematicamente al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, istanza di accesso a fondi per interventi di messe in sicurezza del territorio. La tipologia dell'opera riguarda un intervento di messe in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con riferimento all'acquisizione e sistemazione di Cava Mortella, mentre l'altro intervento riguarda investimenti per la messe in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con riferimento al consolidamento del versante occidentale dell'abitato di Ispica e della strada statale 115, ingresso sud. Gli investimenti sono assegnati ai comuni con la legge 30 dicembre 2018 numero 145 e in questo caso il contributo richiesto afferisce all'anno 2021, per il quale il Ministero ha stanziato somme pari a 350 milioni. Le opere per cui si chiede il finanziamento sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche ed il contributo richiesto è pari ad 1 milione 800 mila euro. Esprimono soddisfazione per questa ulteriore occasione colta per la città di Ispica il sindaco Pierenzo Muraglie, l'assessore ai lavori pubblici Michele Fronterre e l'assessore ai finanziamenti pubblici Lino Quartarone. Abbiamo letto il comunicato stampa firmato dall'assessore ai lavori pubblici Michele Fronterre e dell'assessore ai finanziamenti pubblici Lino Quartarone e del sindaco Pierenzo Muraglie.